Mugnay Gabriele, corsia 1, Cinquillo Edoardo, corsia 2, Michilotti Diego, corsia 4, Valdi Alessandro, corsia 6. Sono proprio la presenta che la quarenta e tessima e l'unima parte mia di 100 scriviti romanzi, con tre anni uno che è così Matteo, vada a scuola, con sia 2, parte di Renzo, un'acqua, con sia 6, un minima, un'acqua, con sia 4, un'ultima, un'acqua, Grazie a tutti Grazie